qualche giorno fa avete visto sul canale che cosa ho comprato al mi store il mouse di casa xiaomi avete visto l'unboxing adesso è arrivato il momento di installarlo sono veramente molto molto curioso lo andremo a installare su questo mac mini ma direi di non perdere altro tempo e di cominciare subito prima di cominciare con l'installazione vediamo un attimo la confezione allora qua abbiamo l'anteprima del nostro prodotto in colorazione bianca 1300 dpi mi dual mode wireless mouse silent edition qua abbiamo di nuovo l'anteprima molto silenzioso fino a 1300 dpi può essere collegato sia con la chiavetta usb che anche con il bluetooth e collegamento 4.2 che cosa ci serviranno due pile mini stilo qua abbiamo il nostro mouse allora l'apertura in senso anti orario quindi verso sinistra così lo andate a capovolgere si apre qua abbiamo la chiavetta unifying si la chiamo unifying perché mi ricorda quella di logitech qua abbiamo il brand xiaomi ok allora qua vanno inserite le pile più e meno quindi andiamo a inserire le pile potete usare pile mini stilo o pile normali io ho trovato queste utilizzo queste qui e andiamo di nuovo a chiudere il nostro coperchio adesso andiamo a inserire la chiavetta usb ok allora diamo l'on diventerà qui come vedete verde e andiamolo a provare subito allora è stato riconosciuto immediatamente vi faccio vedere qui come vedete la freccetta vi cambio un attimo la visuale così potete vedere allora funziona tranquillamente sia il tasto destro che il tasto sinistro apriamo safari ok ho appena preso anche la tastiera ok andiamo su youtube perfetto cerchiamo l'oretec ok l'abbiamo trovato perfetto allora come vedete la rotellina funziona perfettamente tasto destro tasto sinistro adesso vediamo se è possibile collegarlo tramite bluetooth allora vi munite del manuale di istruzione allora la prima parte l'abbiamo fatta è veramente semplicissima per la seconda parte allora attivate il bluetooth premiamo il tastino questo qui che ci servirà per fare il pairing quindi l'associazione con il nostro mouse ok allora abbiamo aperto le preferenze del bluetooth andiamo a premere il tasto per il pairing ok e clicchiamo su connetti perfetto si è connesso verifichiamo allora qua abbiamo il nostro ricevitore qua abbiamo il nostro mouse perfetto come vedete funziona tutto perfettamente ottimo così non avete bisogno di utilizzare il ricevitore opinioni a caldo allora veramente di ottima fattura l'ho provato per qualche ora mi sono trovato veramente molto molto bene è veramente silenzioso come dice l'anteprima avete due possibilità per poterlo collegare prima possibilità con questa chiavetta usb si collega via wireless veramente comodissimo potete collegarla veramente sia un computer che sia anche datato che sia windows che sia mac senza nessun problema viene riconosciuta immediatamente chiaramente vi occuperà una porta usb in alternativa potete collegarla via bluetooth che secondo me è la cosa più comoda sui portatili non avete nessun tipo di problema mentre per quanto riguarda i fissi chiaramente se non avete il modulo bluetooth diventa veramente molto difficile ci sono due batterie mini stilo vediamo magari quanto dureranno queste batterie il mio consiglio è quello sempre di munirvi di batterie ricaricabili così da non aver problemi e poi ricaricare quando il vostro mouse si scarica vedremo anche come attivare questi due tasti speciali che ci permettono magari di fare altre cose questo magari poi lo vedremo in un video dedicato beh ragazzi io sono rimasto veramente molto contento di questo prodotto ero sempre stato abituato a utilizzare logitech da più di dieci anni volevo dare la possibilità a xiaomi di sorprendermi e devo dire che c'è riuscita a pieno fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete provato questo mouse di xiaomi che cosa ne pensate se siete interessati ad altri prodotti scrivetemelo qui sotto magari ve li posso portare in dei video dedicati vi lascio la playlist in cui ho provato altri prodotti xiaomi a questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da xiaomi e l'oretec era tutto noi ci vediamo in un prossimo video ciao